Quello che segue sarà un video molto intenso, molto importante, parliamo di biohacking e parliamo di benessere e performance, come sia possibile migliorare i propri livelli di energia, di concentrazione, riuscire a star meglio sia a livello fisico ma anche a livello mentale, quindi ridurre lo stress e riuscire quindi giorno dopo giorno a dare il meglio di se stessi nella vita, nel lavoro e anche in ambito sportivo. Nella mia vita non sono mai stato un atleta ma se c'è una cosa che ho capito durante il mio percorso imprenditoriale è che è maledettamente importante nella vita gestire i livelli di stress, riuscire ad essere scoglio contro tempesta, avere quella capacità di essere resilienti e portare avanti il buon umore anche nei periodi più difficili. E a tal proposito oggi abbiamo con noi un grande ospite qui al podcast e questo ospite è Nicola Triglione che si è formato in America Seattle, è un grande esperto di biohacking, è stato consulente per sportivi e imprenditori e ha lavorato anche a stretto contatto con il team Ferrari. Penso che Nicola sia una delle persone più autorevoli in Italia, soprattutto quando si parla di biohacking e ha una conoscenza enciclopedica su qualunque cosa. Nell'episodio di oggi vedremo diverse strategie, diverse tecniche per migliorare i propri livelli di energia e ridurre i propri livelli di stress. Parleremo di respiro, parleremo di dispositivi di tracciamento e vedremo le informazioni più importanti per migliorare se stessi, la propria mente e il proprio corpo. Quindi vi do il benvenuto ma soprattutto do il benvenuto a Nicola e cominciamo. Sai cosa, il biohacking secondo me è molto interessante quasi per chiunque, anzi sicuramente per chiunque, perché quando si parla di medicina molto spesso si parla del curare, no? Oppure si parla del prevenire, però per la persona normale il prevenire è un problema che, cioè riguarda un problema che appartiene a se stesso del futuro, quindi molto spesso lo lasciamo a sé. Non ci interessa poi così tanto prevenire. E invece il curare è qualcosa che si manifesta solamente nel momento del bisogno. Invece il biohacking, come dici te, riguarda molto l'ottimizzare, no? Il crescere. Tutti quanti, penso sicuramente, me e te e tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento siamo appassionati alla sensazione di crescita. È la sensazione di crescita che in qualche modo ci fa sentire il progresso personale, la crescita, il miglioramento personale e professionale. E il biohacking è uno strumento straordinario che impatta dal giorno zero, secondo me, tutto questo. Io, tra l'altro, ti dirò la verità, mi sono affascinato a questa disciplina. Beh, prima di tutto mi sono, diciamo, fatto affascinare dal concetto di crescita personale da ragazzino. Poi tutto il tema, ovviamente, dell'accelerazione di carriera, la crescita professionale. E poi mi sono reso conto che il biohacking è l'insieme di intersezione, no? Perché molto spesso le persone non si rendono conto di come poi le performance lavorative dipendano dalle proprie prestazioni psicofisiche, dal proprio stato di benessere corporeo e mentale. E si tende molto spesso a ignorare tutto quello che è l'aspetto psicologico, motorio, eccetera, del proprio corpo. È come se per noi marketers o imprenditori digitali, ad esempio, il nostro corpo fosse semplicemente uno strumento con cui portiamo in giro la nostra mente, per parafrasare Ken Robinson. Invece è uno strumento di catalizzazione, è un acceleratore, è uno strumento importantissimo. Io ho iniziato ad allenarmi seriamente da due anni a questa parte perché finalmente ho trovato la motivazione. Mentre un tempo ci provavo semplicemente con l'idea del devo mettermi in forma fisicamente, per me oggigiorno andare in palestra o allenarmi o fare qualcosa è riuscire a calibrare comunque il mio stato psicologico, il mio stato mentale e ricercare il buon umore, l'energia e la motivazione. Quindi il rilascio di tutti quegli ormoni neuromodulatori, neurotrasmettitori di cui poi magari parleremo che in qualche modo mi fanno sentire quella stamina, quell'energia, quella voglia in qualche modo di fare che altre volte invece non esiste, non c'è e ci si sente demotivati proprio perché manca questo senso di missione prima di tutto perché è importante avere una missione, sapere cosa fare, la pianificazione del proprio lavoro, dei propri obiettivi è importante, però dall'altra se siamo stanchi, se non abbiamo energie è facile innescare un effetto domino che ci porta a divenire incapaci di prendere in mano le redini della nostra vita. Guarda, sono contentissimo per quello che hai detto perché secondo me il vero motivo per cui bisognerebbe allenarsi, non dico tutti i giorni ma quasi, è proprio per livelli di energia, tono dell'umore, intraprendere la giornata in una maniera diversa per guardare alle stesse cose con un punto di vista cambiato, cioè pensare a delle sfide, a delle opportunità e a non degli ostacoli. E il rilascio di tutta una serie di mediatori, ormoni, neurotrasmettitori che noi abbiamo con l'attività fisica serve a questo, a farci vedere le cose con un'energia diversa, con una propositività diversa, in maniera un pochino più positiva e davvero fare un tipo di allenamento, qualsiasi tipo di allenamento, prima di una riunione importante, un esame, può davvero cambiare le sorti di quel particolare evento. Quindi io consiglio a tutti, sì, ok, chi ha problemi di salute metabolica deve assolutamente pensare a come fare attività fisica per quell'obiettivo, ma per le persone che non trovano la motivazione, perché dicono, beh, io mi sento bene, non sono sovrappeso, perché mi devo allenare? Prova ad allenarti come prima cosa di mattina, prima di una giornata particolarmente impegnativa, perché secondo me il feedback e la soddisfazione che ne riceveranno poi li renderà dipendenti dall'allenarsi in ogni dove fondamentalmente. Hai usato la parola perfetta. Ad oggi io sono dipendente dal fare attività fisica. Non sono ancora uno sportivo o un atleta, come vorrebbe Denise ogni tanto, quindi non ti puoi ancora definire uno sportivo, ma sicuramente sono una persona che si allena tutti i giorni, che fa qualcosa tutti i giorni. E provo questo senso di dipendenza, perché quando non mi alleno, quando non faccio qualcosa, mi sento come si sentono tante persone quando non prendono il caffè, che anche quello sicuramente è un extra boost, eccetera, ma l'allenamento di per sé è un'aggiunta. Io ho tutte le mie strategie che mi consentono in qualche modo di performare meglio. La mattina se non faccio una doccia fredda e se non mi alleno, ad esempio le mie energie durante tutto il giorno sono basse. Se invece mi alleno sento proprio una sensazione quasi di buon umore, di energia che si prolunga per tutto il resto della giornata. E da qualche anno a questa parte, ad esempio, non soffro più del crash pomeridiano, non mi viene più sonno dopo pranzo, a meno che non mi mangio un chilo di carbonara, però di solito questo non accade, riesco a performare meglio. E non solo, anche il tema delle emozioni secondo me è molto rilevante, perché il tipo di vita che porto avanti è un tipo di vita estremamente stressante. Faccio tante cose, ho tante attività, abbiamo diverse aziende, stiamo dietro a tonnellate di clienti, oltre a tutti i nostri progetti imprenditoriali, e visto da fuori è bello, no? Nel senso, viaggi, sei libero, sei indipendente, scegli per te stesso, fai la vita che ti sei costruito. Dall'altro è comunque una vita piena di situazioni difficili, di contesti dove in qualche modo ci si trova a dover tenere i denti stretti, ti capita di incazzarti, ti capita di pensare oh mio Dio, che diavolo ho fatto, ti capita di mettere in discussione, e tutte queste cose creano comunque un'inclinazione allo stress, e a uno stress costante, che è insomma il più deleterio, che è molto difficile da debellare e anche da gestire. Senza l'allenamento, senza comunque un'ottimizzazione, senza un appassionamento anche al biohacking, una passione verso il biohacking, non sarei stato in grado, secondo me, di gestire tutte queste cose. E vedo che i periodi più difficili sono poi quelli in cui mi viene da spingere di più, faccio più sport, cammino di più, vado in palestra, cerco di stare più attento al sonno, all'alimentazione. Comunque, mettiamo, facciamo un attimo un puzzle, cioè nel senso abbiamo davanti a noi Nicola Triglione, che ci può mettere a posto la nostra esistenza. Secondo te Nicola, quali sono quelli che potremmo definire i pezzi del puzzle della nostra salute psicofisica più importanti da ottimizzare, tutte quelle cose di cui dovremmo divenire consapevoli e su cui dovremmo prendere il controllo nella nostra quotidianità? Allora, secondo me, a me piace utilizzare un termine che ho rubato da Peter Diamandis, e chi non lo conosce deve conoscerlo perché ha scritto dei libri molto molto interessanti. Peter Diamandis dice che dobbiamo diventare CEO della nostra salute. Quindi fondamentalmente abbiamo la nostra azienda salute che ha un obiettivo. L'obiettivo deve essere, appunto, prioritario, deve essere unico e personalizzato. Sulla base di quell'obiettivo che può essere, appunto, voglio gestire meglio lo stress, voglio avere una forma fisica migliore, voglio avere livelli di energia maggiori, voglio togliere una dipendenza. Lì andiamo a decostruire il nostro percorso, dividendolo in step sostenibili. Durante tutto il percorso, però, non possiamo fare a meno di fare, innanzitutto, degli investimenti, non possiamo fare a meno di delegare o dire dei no, proprio come dei perfetti CEO. E l'altra cosa importante, non dobbiamo, come dire, ossessionarci dietro un singolo dato, e adesso parleremo dei dati, ma, come appunto dice Peter Diamandis, guarda la foresta e non guardare l'albero. Questo perché parlare di biohacking, parlare di diventare CEO della salute, ed è il motivo principale per cui il biohacking si differenzia da altri approcci dello stile di vita, è la cultura del dato. Non mi ricordo chi aveva detto che i dati sono il petrolio del futuro, del presente, in realtà. Quindi, nel momento in cui noi abbiamo un obiettivo, scegliamo quali sono i dati, sia analogici, sia digitali. Tu hai parlato di un dato, di un feedback analogico, che è molto, molto frequente, il crash post-randiale. Cioè, non c'è bisogno di avere un monitoraggio continuo della glicemia per studiare queste cose. Prova a fare una piccola correlazione tra quello che mangi solitamente a pranzo e come ti senti dopo e già alcuni feedback molto, molto importanti ce li hai. Quindi, nel momento in cui noi abbiamo una serie di dati, possiamo innanzitutto formulare un'ipotesi. Allora, raccogliamo i dati quando abbiamo il problema, formuliamo un'ipotesi, raccogliamo altri dati, osserviamo i dati e da lì andiamo a trarre delle conclusioni. E da questo punto di vista, l'utilizzo della tecnologia può essere il nostro migliore amico o il nostro miglior nemico. Perché da una parte ci aiuta con tutte le nostre informazioni, dall'altra ci può sovraccaricare e depistare se o raccogliamo dei dati che non ci servono assolutamente o li interpretiamo nella maniera sbagliata. Quindi... Per chi ci sta guardando, quali sono gli strumenti con cui si possono raccogliere questi dati che tu citi? Cioè, se io voglio ottimizzare il mio stato di salute psicofisica e mi dici, devo raccogliere dei dati, come raccolgo questi dati? App e wearables che sono, diciamo, validati con un'elevata evidenza scientifica e praticamente la maggior parte dei wearables in questo momento lo fa. Per dirti, 4-5 anni fa c'erano le prime app che ti dicevano sì, metti il telefono vicino al comodino sulla base di come respiri, come ti muovi di notte e io ti dico le fasi del sonno. No, non è vero, non c'era uno studio di comparazione come c'è per esempio per il nostro amato Oura Ring con la metodica gold standard che è la polisonnografia. Quindi, se io voglio assolutamente raggiungere un obiettivo di salute psicofisica devo pensare a sonno e stress. Pensare a sonno e stress fondamentalmente vuol dire monitorare la qualità del sonno e tra i vari Oura Ring, Apple Watch, Whoop, Fitbit, Garmin, ormai ce ne sono tanti che fanno benissimo questo mestiere. E da lì come posso utilizzare questo dato? Iniziando a cambiare le variabili. Ok, che cosa succede se io mangio questo a cena, non mangio proprio a cena, mangio a quest'ora, faccio trascorrere questo tempo dal termine della cena quando vado a dormire? Cosa succede se bevo alcol? Se mi alleno? Io vado ad osservare come cambia la mia qualità del sonno e cerco di riprodurre i dati che mi danno più soddisfazione. Pensa che qualche anno fa ho fatto questo esperimento folle che mi aveva reso più stressato che altro di praticamente tenere a questo Excel in cui avevo più di 14 colonne che ogni mattina andavo a riempire. È stato un lavoro in realtà molto utile da un certo punto di vista. e all'interno di questo colonne andavo a mettere tutti i dati che mi venivano restituiti o da Laura Ring che porto ancora oggi ed è qua con me sebbene poi abbia anche diversi dispositivi e anche delle informazioni qualitative o comunque dei dati che potevo raccogliere dalla mia vita di tutti i giorni ossia cosa ho mangiato quanti bicchieri di vino ho bevuto ieri sera ho bevuto alcol non ho bevuto alcol e anche dati molto più folli ad esempio temperatura del materasso perché mi ero comprato uno di l'huler che lo produceva la chili pad che serviva per raffreddare il materasso e quindi potevo vedere in base anche a quanto impostavo la temperatura del materasso che tipo di air trade come reagiva la mia air trade variability ed è stato comunque un lavoro molto interessante cioè le persone non si rendono conto che comunque un lavoro di questo tipo magari non così esagerato come l'ho fatto io comprando mille dispositivi e facendo tanti test e ti apre gli occhi su tante cose quello è stato il momento in cui ho iniziato a capire quali cibi magari mi davano più fastidio quali erano le mie abitudini che in qualche modo mi portavano ad avere un crash pomeridiano o comunque bassi livelli di energia ho capito che ad esempio sono una persona che se dorme meno di sette sette ore a notte ma meno di sette e mezza anche in qualche modo ne risento come se io avessi un drop fino alle sette ore ancora ancora ma se supero le sette ore cioè se diminuisco le sette ore di sonno ne risento tantissimo e quindi riuscire a capire secondo me anche i valori collegati alla propria esperienza è importante perché finché leggi i libri ti dicono devi dormire minimo otto ore poi ce ne sono altri che ti dicono sì ma alcune persone sono dei night hall possono stare e dormire anche molto meno andare a letto tardi svegliarsi tardi secondo me è tutto relativo poi bisogna vedere nella pratica cosa succede quando noi in prima persona ci mettiamo in gioco per capire queste cose sono assolutamente d'accordo anche perché le variabili sono veramente tante vanno studiate in maniera approfondita e poi vanno anche come dire intrecciate secondo me sonno e stress fanno parte praticamente dell'unico grande pilastro perché c'è un'interconnessione bidirezionale e quindi allora io monitorando alcuni dati dello stress come l'arthrite variability che fondamentalmente è un indice oggettivo di stress psicofisico e quindi di salute generale ed è stata anche come dire paragonata ad un indice ad un surrogato dell'età biologica dove per età biologica noi intendiamo l'età attribuibile ai tessuti sulla base della loro funzionalità versus l'età cronologica che è quella appunto della carta di identità e se fino a poco tempo fa noi avevamo allora era difficilissimo andare a misurare questa variabilità della frequenza cardiaca cioè per dirti oggi ho fatto la tesi di specializzazione in cardiologia e mi guardavano come se fossi un alieno perché fino a pochi anni fa non c'erano dei dispositivi che ti permettevano da casa di misurare in maniera oggettiva questo dato cioè le persone dovevano essere ospedalizzate o fare degli alter c'erano dei software molto complicati adesso con anelli del genere o l'app dello smartphone mettendo il dito appunto dietro la fotocamera abbiamo dei dati oggettivi e riusciamo a vedere appunto come cambia questo dato in base a vari stressor e come noi possiamo intervenire e ci sono tutta una serie di feedback e di interventi come dire non analogici chiamiamoli analogici la doccia faredda l'esercizio di coerenza cardiaca quindi una respirazione diaframmatica con un rapporto tipo 5-5 ma adesso siamo entrati nella seconda fase dell'artritic variability cioè io ho dei device tecnologici che mi permettono di migliorare a questo dato ti faccio un esempio non so se conosci il Sense8 o Apollo il Sense8 è il matrasso vero? no il Sense8 praticamente è una piastrina che si mette in corrispondenza dello sterno emette una serie di onde sonore vibrazionali che comunicano sembra esoterismo ma non lo è comunicano con il nostro sistema nervoso autonomo e vanno ad influenzare positivamente la nostra variabilità della frequenza cardiaca perché comunicano con il sistema nervoso autonomo io la faccio col gatto di solito me lo metto qua quando fa le fusa e solitamente vedo che l'artritic variability mi insale le vibrazioni ce le è anche lì oppure c'è un altro braccialetto che si chiama Apollo che vibra questo perché tutto quello che è vibrazione se fatti in una certa maniera tramite onda meccanica onda sonora riesce a comunicare bene con il sistema nervoso autonomo e ci sono diversi studi che parlano di un effettivo miglioramento della variabilità della frequenza cardiaca incredibile quindi adesso siamo nella fase in cui davvero non abbiamo più solo dispositivi diagnostici mi dicono ok io ho bisogno di questo dato tu mi dici effettivamente come è messo questo dato ma ci sono dei dispositivi che ci aiutano nella terapia una domanda l'air trade variability per chi non la conoscesse che è la variazione della frequenza cardiaca praticamente è la differenza che c'è di tempo tra un battito e l'altro del nostro cuore vero? esattamente cioè noi siamo abituati a pensare dico è controintuitivo perché viene da pensare che un buon cuore deve essere un cuore regolare esatto più è alta l'air trade variability meglio meglio stiamo ok quindi più è varia il periodo di tempo che passa tra un battito e l'altro quindi più è regolare il nostro battito più siamo in salute e meno stressati dico bene esattamente allora noi siamo abituati a pensare che una frequenza cardiaca cioè il numero di battiti in un minuto tipo 60 battiti al minuto vuol dire un battito al secondo non succede mai e se succedesse saremmo veramente diciamo in fase calante devo dire perché un cuore che batte è super preciso come un metronomo non è un cuore in salute questo perché la centralina del nostro cuore che si chiama nodo seno atriale che riceve dal sistema nervoso autonomo gli impulsi nervosi per generare i battiti è basata su una bilancia che si chiama bilancia simpatovagale cioè l'alternanza degli impulsi dati dal sistema nervoso autonomo nella branca simpatica cioè l'acceleratore e la branca parasimpatica cioè il freno se c'è un buon equilibrio abbiamo una distanza tra un battito e l'altro sempre diversa può essere 700 millisecondi poi un secondo per un secondo e due poi 600 millisecondi e questo è fisiologico quando invece abbiamo una distanza sempre molto simile vuol dire che domina la branca simpatica abbiamo sempre il piede premuto sull'acceleratore e abbiamo un rapporto assolutamente rigido tra cuore e cervello in cui il sistema nervoso autonomo influenza in maniera molto molto rigida la genesi dei nostri battiti quindi fondamentalmente la variabilità della frequenza cardiaca è un modo per andare a capire com'è lo stato del nostro sistema nervoso autonomo e come influenza l'organo cioè il cuore con cui c'è sempre una fisiologica comunicazione che dovrebbe essere bidirezionale tant'è che io con la respirazione posso come dire dare un tipo di comunicazione che va invece dal cuore verso il cervello per dire la respirazione è l'unico meccanismo involontario di cui noi siamo dotati ma che possiamo controllare consapevolmente e controllando la respirazione appunto come gli esercizi di respirazione diaframmatica o il tuo capalabati o altri che si occupano appunto dell'aumento della durata di espirazione noi creiamo una finestra sul sistema nervoso autonomo e possiamo quindi intervenire su questa bilancia simpatovagale andando a potenziare la branca parasimpatica il cui maggior responsabile è il nervovago su cui possiamo agire con respirazione doccia fredda musica principi attivi e quindi integratori tutta una serie di cose provo a fare un recap per tutte quelle persone che come me non sono così esperte allora il sistema nervoso dimmi se è corretto quello che ho capito il sistema nervoso si divide in simpatico e parasimpatico si divide in a noi interessa la parte autonoma la parte involontaria la parte il sistema nervoso autonomo si divide in simpatico e parasimpatico ok la parte simpatico è quella che ha a che vedere con tutto quello che è magari il fight or flight response quindi l'attività è un attimo quella più orientata all'azione stress azione e gestione dello stress invece la parte parasimpatica è più dedicata al senso di rilassamento e magari immagino che abbia poi ognuna delle due si attivi anche in presenza di determinati ormoni o neurotrasmettitori immagino che se ad esempio siamo esposti all'ossitocina magari si attiva di più la parte parasimpatica ok perfetto e come dicevi te queste due queste due parti devono rimanere quanto più bilanciate tra di loro se siamo una persona che tendenzialmente è sempre è portata ad avere la parte simpatica più attiva saremo una persona più stressata o comunque che diciamo soffre una vita molto impegnativa rispetto a colui che invece ha una parte parasimpatica più attiva dico bene? ok e il respiro è uno strumento straordinario perché a seconda del respiro che noi della pratica di breathwork di respiro che possiamo integrare nella nostra quotidianità possiamo diciamo attivare una parte piuttosto che l'altra da quel che so io se facciamo un tipo di respiro che prevede un'inspirazione bassa invece un'espirazione molto lunga andiamo a lavorare sul parasimpatico quindi a rilassarci se invece vogliamo essere più energici o più attivi andiamo a lavorare su un tipo di respirazione che prevede un'inspirazione più lunga e un'espirazione più corta oppure ad esempio ispirazione e ispirazione molto veloci perché in quel modo andiamo ad attivarci è corretto esatto come le sai tutte queste cose lo so perché seguo Nicola Triglione sì oltre a tanti altri il mio trio di persone che seguono c'è Uberman Lab che mi piace molto Peter Attia e poi ci sei te ogni tanto seguo anche David Sinclair che non mi dispiace però lui è un po' più difficile da seguire no sono argomenti molto interessanti appassionanti e penso che appassionanti e penso che ognuno di noi è responsabile verso il cercare di comprendere queste cose integrarle all'interno della propria vita più che altro più che responsabilità è anche una mancanza è una grande mancanza di opportunità per tutti coloro che non se ne interessano ci troviamo in un momento storico dove la scienza sta facendo e la medicina stanno facendo dei passi da gigante stiamo arrivando a scoprire tante cose sul nostro funzionamento e mi rendo conto che chi non studia queste cose è come se non avesse in mano le redini della propria mente e del proprio corpo invece colui che si studia queste cose e impara ad appassionarsi e a comprenderle ha un vantaggio competitivo rispetto agli altri umani straordinario sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista professionale e questa cosa a me affascina terribilmente e poi Danny è insegnante di yoga quindi un po' di respiro esatto ascolta Nico quindi stavamo parlando di dati le altre variability è uno dei dati più interessanti e più importanti mi viene da dire anzi io la mattina quando mi sveglio dopo colazione o comunque quando la giornata è iniziata anche perché di questo non dovremmo parlare dicevamo che controllare ossessivamente i dati può essere uno strumento straordinario come uno strumento in realtà di esasperazione io mi ricordo all'inizio quando ho comprato Laura Ring per la prima volta ed ero super infissa con l'ottimizzazione del mio sonno ho detto caspita devo riuscire ad avere un punteggio quanto più alto possibile e invece tutto il primo periodo da quando ho comprato Laura Ring a un mese o due dopo il mio sonno andava andava peggiorando tra l'altro è stato il primo momento della mia vita in cui ho iniziato a soffrire di insonnia ti rendi conto perché io andavo a letto con questa ansia da prestazione dicendo devo dormire è tardissimo Laura Ring mi ha detto che devo andare a letto devo dormire almeno otto ore ma ho la sveglia magari alle sette andando a letto tardi mi rimangono solo sei ore sette ore come faccio ad addormentarmi come faccio ad addormentarmi e per la prima volta nella mia vita ho iniziato a soffrire di insonnia quindi questo oggetto qua se non si sta attenti e non si è bravi a reagire a queste dinamiche poi può portare comunque a un peggioramento più che un miglioramento poi diciamo ho iniziato a viverla meglio e da lì si è trasformato in un grande alleato però ho anche imparato ad esempio a non farmi condizionare troppo dai dati quindi magari è vero che se la rate variability è bassa magari non sono in un'ottima forma fisica ma talvolta preferisco scoprirlo dopo non appena mi sveglio perché se no mi faccio condizionare ancora di più ed entro in un circolo vizioso virtuoso in cui sapendo che non sto bene mi sento peggio stando peggio magari mi impegno meno e tutte queste cose portano poi a una decrescita che è una crescita sono d'accordo allora innanzitutto c'è da dire che secondo me la raccolta e l'interpretazione dei dati non è mai la causa di un comportamento ansiogeno ma magari una tendenza ad essere ansiosi in un dato periodo poi può portarci ad interpretare diversamente alcuni dati quindi può essere più c'è più la spia che la causa però sono d'accordo con te ci sono delle persone che vivono l'aspetto del biohacking con la FOMO cioè hanno l'ora ring l'Apple Watch catene il news il monitoraggio continuo della glicemia anche se non hanno bisogno di quei dati e questo può essere contraproducente perciò io ti dico la cosa più importante qual è? non lo so soffri di allergie monitora la qualità dell'aria all'interno di casa tua hai problemi a bere tanta acqua c'è un'app che si chiama Water Reminder che ti stressa dalla mattina alla sera e ti chiede di bere l'acqua hai problemi col sonno hai problemi con l'attività fisica l'Apple Watch e i vari Garmin praticamente è un'estorsione che ti costringono a fare attività fisica se no non dico che si spengono ma quasi quindi scegli il tuo però con le persone che acquistano l'ora ring per esempio cioè la cosa più bella che faccio quando si tratta di persone che seguono i percorsi one to one di coaching andiamo lì a distanza entriamo in trend andiamo a vedere i dati quindi trend readiness o sleep prendiamo le medie settimanali degli ultimi mesi non prendiamo mai il singolo dato e io invito infatti io nel senso per me non è causa di scompensi anzi mi piace accedere ogni giorno non lo faccio più come un tempo come prima cosa ma magari a metà mattina appena un attimo perché mi devo ricordare di caricare l'anello quindi vado a vedere anche i dati però davvero la cosa più importante sarebbe quasi accedere solo la domenica mattina e vedere com'è la media settimanale e capire quella media da cosa è stata influenzata anche perché l'orario ti permette di cioè chi ha un diario personale un'agenda ma banalmente i vari tag che si possono inserire nell'ora ho avuto non lo so una serata fuori un allenamento intenso ti fanno vedere diversamente come diciamo te li fanno vivere diversamente anche perché uno degli strumenti migliori per la gestione dello stress secondo me è anche pensare all'orizzonte temporale quindi capire che non è la fine del mondo quello che succede in quel dato giorno è la causa dell'ansia della frustrazione della problematica di quel dato giorno magari non ha più significato se vista ad un mese di distanza ad una settimana di distanza quindi questo può essere un grande supporto io ho due suggerimenti per chi compra questi dispositivi il primo è imparare a conoscere i dati perché vedo tante persone che hanno l'aura ring poi non sanno che cos'è l'air trade variability da che cosa deriva il punteggio di readiness quindi se non capisci i dati ti fai poco di quello strumento e l'altra cosa forse ancora più importante è trarre delle conclusioni cioè tante persone entrano nell'app dell'aura ring o di apple watch qualsiasi applicazione guardano i dati ma non non scrivono non non traggono conclusioni e non accumulano dei dati che abbiano come obiettivo quello di portarci a una certa consapevolezza riguardo a come determinate azioni determinati cibi determinate abitudini impattino sulla nostra salute cioè per capire quanto sonno mi serve per riuscire a stare bene devo prima per un periodo di tempo analizzare quanto ho dormito e come sono stato raccogliere i dati darmi quindi dei valori dei punteggi di qualità del sonno e poi capire quali sono state le cose che hanno influito su quel sonno perché magari se guardo dopo una settimana il trend del sonno vedo che è salito o calato ma se non se non mi sono segnato appuntato quali sono state le fonti che hanno portato a migliorare e peggiorare il sonno ovviamente mi è difficile trarre delle conclusioni e apprendere magari una lezione esatto guarda io ti dico sul mio canale youtube ho quattro video che parlano appunto dell'ora ring ma citando appunto quelle che possono essere chiamate delle pack lato user non lato producer questo perché usando dal 2018 l'ora avendo lavorato con centinaia di persone che ogni giorno vanno a registrare i loro dati ho cercato di raccogliere un po' una guida per poter come dire convivere bene con la tecnologia usandolo a diciamo a nostro favore e senza che appunto ne riceviamo delle conseguenze spiacevoli assolutamente d'accordo penso che studiare i dati e studiare anche l'origine di questi dati capire che cosa significano sia fondamentale oggigiorno per le persone che vogliono approcciare questo settore comunque c'è una cosa che hai detto prima e mi è rimasta molto impressa hai detto l'air trade variability può essere un dato che in qualche modo dà quasi una dimostrazione ci dà quasi un'idea di quale sia la nostra età biologica no è anche vero che tante persone quando comprano uno di questi dispositivi e guardano l'air trade variability hanno la tendenza a confrontarla subito con quella dell'amico come se ci fosse questa gamification o competizione quindi io ho 100 di air trade variability e un mio amico ha 70 o 40 e magari subito nasce questa ansia dovuto al fatto che qualcuno ha un valore altissimo e io magari potrei avere un dato più basso però e quindi viene spesso detto che la cosa importante non è quindi basarsi sul valore assoluto ma basarsi sul trend di lungo periodo della nostra air trade variability ossia sta crescendo sta decrescendo sto meglio rispetto alla settimana scorsa o sto peggio rispetto alla settimana scorsa però allo stesso tempo mi chiedo allora in che modo posso utilizzare quel valore per determinare percepire potenzialmente quella che potrebbe essere la mia età biologica se il valore in assoluto non è così rilevante allora ti dico nel 2014 in Silicon Valley è stato istituito un premio che si chiamava X Prize cioè un milione di dollari a chi riesce a riportare l'età biologica indietro senza parlare di valori assoluti e il dato singolo ed esclusivo che veniva utilizzato per monitorare l'outcome di tutti gli esperimenti era la capacità di aumentare la variabilità della frequenza cardiaca indipendentemente dal valore assoluto quindi dopo aver lavorato ti dico come poterla utilizzare appunto ogni giorno dopo aver lavorato per almeno tre mesi cioè raccolto per tre mesi i dati tutti hanno di fronte a sé una baseline cioè un punteggio medio di heart rate variability tutto quello che ci permette di aumentare questo valore stabilmente di almeno il 10% sta portando indietro la mia età biologica però c'è un tetto massimo immagino o posso aumentare la mia heart rate variability all'infinito allora non aumenta all'infinito non aumenta all'infinito cioè tu per esempio secondo me hai dei valori altissimi che io mi ricordi e probabilmente nel tuo caso ci sono delle caratteristiche genetiche per cui tu hai dei valori mi ricordo superiori a 90 anche sì sì io di solito ero anche fino sopra i 100 però poi ho superato i 30 anni e lo stress ho aumentato e ora sono fermo agli 85 90 quando va benissimo quindi di fronte ad una persona che mediamente è a 30 non per forza la tua età biologica è migliore la tua capacità di tollerare lo stress è migliore ma quanto siete in grado da 30 l'altra persona e tu dal 90 a 100 di crescere o comunque di non decrescere e mantenere stabile con l'età questi valori questo ci dà appunto un'idea sull'età biologica questo perché tendenzialmente con l'età la variabilità della frequenza cardiaca fisiologicamente si riduce quindi già il fatto di mantenere stabile ogni anno le proprie medie i propri valori e comunque non so da quando ce l'hai però dal 2018 ormai sono quasi 5 anni di dati che abbiamo a nostra disposizione abbiamo superato i 30 anni qualche capello bianco ce l'abbiamo quindi cominciamo a farci due conti sì ho anche notato che in termini assoluti i dispositivi tra i loro variano un po' i valori di R3 variabilità che ti dà la media è circa la stessa ad esempio io in passato avevo il Garmin che ha iniziato anche lui a darti dei valori di R3 variabilità Laura Ring e ora ho anche un Apple Watch tutti e tre hanno circa lo stesso trend questo significa che se l'Apple Watch mi dice che l'R3 variabilità è scesa tendenzialmente anche Laura Ring mi dice che è scesa però dove laddove magari Laura Ring mi dà un valore il Garmin me l'ha sempre dato più basso quindi i trend coincidono ma il numero in sé non è sempre identico non che sia un problema perché abbiamo detto che la cosa importante è quella dei trend però voglio anche dire alle persone che magari si fanno affascinare da numero assoluto che poi dipende spesso anche da dispositivo c'è sempre un delta di errore immagino esatto anche perché nella variabilità della frequenza cardiaca noi raccogliamo una serie di parametri tipo SDNN ed RMSSD il più preciso è l'RMSSD che è quello che utilizza Laura Ring e da poco anche l'Apple Watch fino a due o tre anni fa l'Apple Watch dava dei valori molto più alti perché teneva conto dell'SDNN adesso si stanno tutti uniformando la cosa importante è anche il momento in cui viene controllata per dirti Laura Ring fa per tutta la notte registrazioni di cinque minuti e fa le medie di tutti questi cinque minuti e questo è un modo molto molto affidabile invece altri dispositivi come l'App HRV for Training o Elite HRV ti richiedono fondamentalmente al risveglio di svegliarti svuotare la vescica sederti per uno o tre minuti con il dito sulla fotocamera capisci che può essere diverso rispetto ad una media di tutta la notte l'Apple Watch purtroppo ha questo problema qua che se usi i suoi valori di default lo registra semplicemente mi sa una o due volte di notte o addirittura una sola volta oppure l'altra alternativa che hai è quella di utilizzare l'app respirazione togliere la vibrazione non fare i respiri perché facendo i respiri influenzi il sonno e allora a quel punto lì attivando respirazione lei registra l'air trail variability e tu non respirando non vai a influenzare il valore e puoi registrarlo il problema è qual è che Laura Ring registra un andamento un trend durante tutta la notte quindi è un valore molto attendibile l'Apple Watch invece ne registra due oppure ne registra tre se tu ci aggiungi quello sempre alla stessa ora in cui usi l'app respirazione però gli hacker hanno capito che c'è un modo per arginare questo problema che sto utilizzando io stesso è un po' una palla possiamo dirlo praticamente devi andare nelle impostazioni dell'orologio nella sezione sempre salute però forse direttamente dall'iPhone e hai la possibilità di attivare adesso io sono ignorante quindi tu ne sai più di me mi sa la fribrillazione atriale allora a quel punto che cosa succede è che l'Apple Watch inizia a registrarti l'air trail variability tutto il giorno a distanza di circa un quarto d'ora o l'uno dall'altro e quello che faccio è ogni giorno quando mi sveglio la mattina cancello tutti i valori registrati durante il giorno e tengo solo quelli della notte sempre compresi tra lo stesso periodo quindi non so da mezzanotte o l'una l'una alle 11 e le 7 e mezza orario a cui di solito mi sveglio quindi a quel punto hai dei valori molto più simili a quello dell'Apple Watch e anche un trend notturno molto simile a quello dell'Apple Watch però insomma non è proprio una cosa facile alla lunga però per chi ha l'Apple Watch può essere interessante ci metto al massimo 5 minuti ma neanche un minuto a cancellare tutti i valori quindi devi semplicemente avere la voglia tutti i giorni di guardarti il valore e cancellarlo allora dicevamo Earth Day Variability direi che ne abbiamo parlato a sufficienza ed è un valore molto importante quali sono gli altri valori che ognuno dovrebbe tenere sotto controllo nella propria quotidianità per valutare in che modo sta progredendo o degradando la propria esistenza secondo me dipende un po' come hai detto da quelli che sono gli obiettivi ma ce ne sono tanti uno secondo me dei più sottovalutati è quello degli esami del sangue alla fine vuol dire monitorare una serie di valori il problema è che lo dobbiamo fare bene cioè siamo abituati a fare sempre i soliti classici esami standard come se avessimo non lo so 80 anni che andiamo a monitorare la funzionalità renale con la creatinina ma non ci dà nessun tipo di informazione certo cioè perché dovremmo avere l'insufficienza renale a 20 a 30 a 40 anni invece partire da quelle che possono essere le cose misurabili e le carenze nutrizionali più frequenti cioè vitamina D vitamina B12 su cui io posso intervenire è già un ottimo punto di partenza che mi permette poi di cucire in maniera personalizzata il mio dosaggio di vitamina D vitamina B12 che come detto sono delle carenze nutrizionali che in più nell'80% dei casi si ritrovano molte persone assumono questi integratori ma lo fanno senza un dato forte di partenza e quindi non sanno bene né qual è il dosaggio né per quanto tempo devono assumere né come monitorare questo dato e il risultato qual è che dopo un po' non sono motivati perché non hanno un feedback su quello che stanno facendo e interrompono l'assunzione però quali sono cioè se tu dovessi dire a una persona che tipo di analisi del sangue fare una persona che magari ha tra i 30 e i 40 anni quali sono forse i valori principali le cose più importanti da andare ad analizzare così a livello generale poi immagino che quando uno poi trova qualcosa che non va deve andare nello specifico e cercare di capire dove bisogna andare a scavare allora sicuramente vitamina D che però non vuol dire solo vitamina D vuol dire anche dosare calcemia e paratormone perché paratormone e vitamina D sono inversamente proporzionali quindi avere 30 di vitamina D con 30 di paratormone non è la stessa cosa che avere 30 di vitamina D e 90 di paratormone in questo secondo caso il dosaggio di vitamina D da assumere deve essere maggiore stessa cosa per quanto riguarda la vitamina B12 lo zinco per l'uomo fondamentale soprattutto per la produzione di ormoni sessuali puoi mettere emocromo tiroide ferro fegato non tanto perché pensiamo di avere un'insufficienza epatica ma perché alcuni valori come la gamma GT ci danno un'idea su quello che è la nostra capacità di detossificazione epatica e il nostro potere ossido riduttivo a livello epatico quindi la nostra necessità di assumere antiossidanti o no questo perché il fegato produce il glutatione che è il nostro maggior presidio antiossidante di cui appunto siamo che abbiamo a disposizione però ci sono tutta una serie di problematiche come dieta alcol o altre cose che riducono la nostra produzione epatica di glutatione questo è segnalato da un esame chiamato gamma GT e in quel caso noi andiamo a fare ad esempio un'assunzione di n-acetilcisteina che per gli amici sarebbe il principio attivo del fluimucilla che oltre ad essere un mucolitico è il precursore del glutatione ok quindi questo è fondamentale poi tra le altre cose che si possono andare a dosare parlando degli uomini ci può essere l'idea degli ormoni sessuali quindi testosterone libero testosterone totale idea soprattutto se ci sono due condizioni la prima condizione è l'incapacità di aumentare la massa muscolare nonostante appunto un allenamento della forza o un aumentato introito di proteine e poi dei livelli di stanchezza sempre molto alti e non spiegabili da altri fattori questi sono i due trigger che a partire dai 30 anni dovrebbero spingere un uomo a valutare com'è appunto il livello di ormoni sessuali nel sangue molto interessante senti una cosa che mi sta a cuore capire in america senti molto spesso parlare magari uberman o tanti altri esperti di biohacking o ricercatori di servizi di analisi del sangue a domicilio domicilio non che venga qualcuno a farti l'analisi ma magari tu fai un prelievo e lo invia qualcuno e questo ti viene controllato in Europa ancora non c'è niente del genere ci sono ci sono per alcune cose allora per quanto riguarda i kit domiciliari uno dei più affidabili oltre a uno dei più utili è il cortisolo salivare o il cortisolo urinario andare a fare gli esami del sangue non lo so alle 7 del mattino e dosare solamente il cortisolo in quel dato momento della giornata che è un ormone dello stress ci dà zero informazioni questo perché a noi interessa la pulsatilità dell'ormone come tutti gli ormoni noi abbiamo dei livelli fluttuanti durante la giornata è un livello di cortisolo fisiologico è un livello buono barra alto di mattina che però tende a calare nel corso della giornata quindi questi kit salivari o di raccolta delle urine ci permettono di conoscere alcuni livelli di ormoni fluttuanti in diversi momenti della giornata solitamente sono le 8 le 16 e le 22 e poi questi servizi appunto ritirano il campione ti danno il referto a distanza ma ci sono veramente c'è gente che ha avuto problemi con intossicazione di metalli pesanti e allora anche in quel caso c'è la raccolta delle urine che ci dà questo tipo di informazioni secondo me appunto per quanto riguarda il dosaggio di questi dati biometrici la cosa importante è procedere per step quindi partire da quelli ematici non standard ma standard per il biohacking quindi approfonditi e poi se i problemi non vengono risolti trovando magari delle carenze o rimediando con degli integratori a dei valori che non ci piacciono andare avanti ad approfondire con esami fatti su saliva è molto affascinante tutto questo cioè secondo me il tema dell'integrazione è molto interessante trattato però male da molte persone anche perché molto spesso viene da farsi prendere dall'entusiasmo riguardo a ciò che leggiamo in internet e vi è la tendenza a immaginare che qualunque cosa faccia bene al prossimo farà bene anche a noi invece la parola integrazione sarebbe proprio andare a colmare dove c'è carenza però se prima non capiamo dove sta la carenza e non capiamo poi anche molto spesso tutte le dinamiche che riguardano questi integratori e le vitamine che andiamo a prendere e i vari integratori che potremmo acquistare molto spesso andiamo a fare un lavoro che sicuramente non è nemmeno efficiente dal punto di vista economico perché comprare integratori a caso che molto spesso se buoni costano un bel po' di soldi prenderli in maniera regolata non porta sicuramente a grandi benefici dall'altra mi rendo anche conto che non è facile capire questo mondo tra l'altro tu stai lavorando su una masterclass su questo argomento sì sì sto producendo una masterclass sugli integratori che ci servirà proprio per sfatare alcuni miti e impedire che le persone assumano dei prodotti a caso che è la cosa che io vedo più frequentemente fare a me questo interessa molto anche perché c'è proprio anche la necessità di capire in fondo tutti questi integratori come funzionano l'uno con l'altro anche perché mi è capitato molte volte di comprare la vitamina D perché lo leggevi nel libro di Tim Ferriss prenderla ma poi solamente recentemente tra l'altro forse guardando uno dei tuoi video ho scoperto che la K2 è fondamentale per poi l'integrazione della vitamina D cioè ci sono correlazioni tra una vitamina e magari un'altra vitamina e se prendi l'una senza l'altra l'assorbimento magari è molto basso dico bene? sì sì assolutamente guarda quello che succede è che o i professionisti della salute o le stesse persone consigliano acquistano acquistano dei multivitaminici semplicemente per avere la coscienza a posto guarda io non so bene di cosa ho bisogno non so bene cosa sto assumendo però prendo un multivitaminico e il mio livello di amor proprio è magicamente salito sto facendo qualcosa per me stesso la realtà è che il classico multicentro esatto esatto guarda più pubblicità vedi in tv meno scienza c'è in questi prodotti oppure appena parte non lo so maggio-giugno bombardati col polase magnesio informe non biodisponibili è chiaro però che se nessuno ti dice cosa è meglio assumere non è tu non sai che cosa fare quindi ti affidi anche per il come dire il bombardamento subliminale di queste pubblicità associ ci sono come sai l'i-value concept persone che non parlano di multivitaminici parlano direttamente di multicentrum non parlano di magnesio parlano solo di polase come se il polase fosse misurabile negli esami del sangue no ci sono delle alternative la realtà ed è il motivo per cui sto facendo questa masterclass è aumentare la consapevolezza su questo argomento ti dico allora i multivitaminici dovrebbero costare cento volte di più se davvero all'interno contenessero dei principi attivi in una formulazione biodisponibile cioè che assorbiamo meglio e col dosaggio che ci serve vi faccio un esempio la vitamina B12 c'è in tutti i multivitaminici non si scampa ma a livello di vitamina B12 ci sono una serie di forme adenosilcobalamina cianocobalamina metilcobalamina la ricerca è unanime nel dire che solo la metilcobalamina è assorbibile in grandissima percentuale le altre forme invece costano poco ma fanno poco qual è la differenza anche tra la vitamina D e la D3 che anche di questo molto spesso senti parlare di questa distinzione però non ho mai compreso fino a fondo qual è la differenza sì allora la vitamina D3 sarebbe il cole calciferolo che è quello contenuto nella maggior parte degli integratori poi c'è la vitamina D2 che è una forma chiamata ergo calciferolo che è estratta dai funghi essiccati al sole e che ha una biodisponibilità molto molto bassa però quello che io vedo molto spesso è che ci sono delle persone che nonostante l'assunzione di buone dosi di vitamina D3 non riescono ad aumentare il loro lavoro e quello è il caso appunto di scegliere dei principi attivi che funzionano da enhancer cioè che aumentano la sinergia appunto l'assunzione di K2 o di magnesio e di magnesio aumenta l'assorbimento della vitamina D3 che invece normalmente si attesta intorno al 60 70% di quello che assumiamo e se ci fai caso nei molti vitaminici non trovi mai degli ingredienti come dire abbastanza costo la vitamina K2 non la troverai mai non troverai mai il rame lo iodio o gli elementi fondamentali perché mettere un buon dosaggio di questi principi attivi vorrebbe dire far schizzare il prezzo alle stelle capito è chiaro quindi se uno vuole roba buona insomma la devi pagare sì o identificare non le 20 vitamine del multivitaminico ma quelle che realmente mi servono sulla base di aumentato fabbisogno inadeguato apporto con la dieta esami del sangue obiettivi prendere solo quelle lì con un dosaggio maggiore in una formulazione migliore molto interessante allora innanzitutto per chiunque possa essere interessato alla masterclass lasciamo poi in descrizione il link e invece fino adesso volevo fare un piccolo recap abbiamo visto un attimo l'importanza di raccogliere dei dati l'importanza di sapere interpretare questi dati l'importanza dell'air trade variability abbiamo parlato dell'importanza del sonno c'è un altro dato che ad esempio mi dava spesso il Garmin che io non ho mai approfondito fino a qualche tempo fa e ancora oggi non mi è facilissimo capire che è quello del V2 max che immagino che da cardiologo sarai in grado di dirci qualcosa di più al riguardo allora fondamentalmente il V2 max è la capacità massima di estrarre ossigeno da parte dei tessuti periferici quindi io a parità di pompaggio di sangue da parte del cuore cioè il cuore pompa a riposo 5 litri al minuto sotto sforzo arriva a pompare 20-30 litri al minuto e questo è un dato fisso dall'altra parte ho i miei tessuti periferici che in base a metabolismo condizioni di ossidazione infiammazione estraggono meglio o peggio l'ossigeno dal sangue per darlo ai tessuti questo è un valore che fondamentalmente i vari dispositivi calcolano in maniera automatica inserendo peso inserendo l'età e inserendo la frequenza cardiaca riposo anche se la realtà è che la fisiologia non è così algoritmica questo perché cambia appunto a parità di questi parametri la diversità di funzionamento dei mitocondri quindi delle nostre centrali energetiche cellulari il modo migliore è quello appunto di fare un test cardiopolmonare cioè un test da sforzo fatto su ciclette o su treadmill in cui c'è una maschera che va a misurare i gas espirati e quindi va a calcolare non è quello che si fa anche nel quando si fa il certificato medico sportivo allora quando ti fa il certificato per attività agonistica si fa il test da sforzo ma senza gas espirati ok invece questo è un test di fisiologia dell'esercizio che fanno o gli atleti d'elite o le persone che vogliono raggiungere aumentare l'aspettativa di vita che parlano di longevità perché anche il VO2 max è uno dei predittori della longevità e adesso sempre più sono diffusi questi tipi di test e molte persone ti faccio l'esempio arrivano in visita semplicemente perché l'Apple Watch ha dato il warning l'alert tono cardiovascolare basso e temono di avere una problematica quindi in quei casi in realtà la cosa migliore è capire da un punto di vista generale quindi con altri esami come l'ecocardio l'elettrocardiogramma a riposo come funziona il cuore se il cuore funziona bene bisogna capire appunto il funzionamento dei mitocondri la capacità metabolica di estrarre l'ossigeno dal torrente circolatorio e lì appunto si può pensare a dei test più approfonditi come il test cardiopolmonare però secondo me non è tra i test come dire di primo livello che possono essere proposti perché parliamo già di un percorso abbastanza avanzato cioè io consiglio comincia ad allenarti perché comunque stai facendo qualcosa per migliorare il tuo VO2 max soprattutto se stai inserendo delle fasi di attività cardio a bassa intensità e ad alta intensità invece la maggior parte delle persone si allena nelle fasce intermedie la classica zona 3 che sono inutili assolutamente per zona 3 intendiamo ad esempio quanti vabbè dipende ovviamente da persona a persona parliamo un attimo di queste zone se vai a fare una corsa di 10 km la corri più o meno in 50-60 minuti sei in zona 3 cioè mediamente tra il 70 e l'85% della tua frequenza cardiaca massima teorica non ti stai facendo del male ma non stai accedendo ai benefici della bassa intensità cioè tra il 65 e il 70% e dell'alta intensità quindi sopra l'85% comunque quanto più vicini a FC max ok quindi ipotizziamo per capire un po' le zone di allenamento perché non è sempre chiaro capire come funziona tra l'altro consiglio il tuo video che hai fatto su youtube i tuoi video perché ne hai fatti diversi però per semplificare un attimo la cosa potremmo dire che a seconda della frequenza cardiaca in cui ci troviamo a lavorare rientriamo all'interno di una zona diversa di sforzo esatto quindi c'è zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 molto spesso chi si appassiona alla longevità spesso parlare dell'importanza della zona 2 ad esempio sento che Peter Attia ne parla spesso eccetera che è attorno al 70% del nostro sforzo massimo e anche te in un video dicevi la zona 2 senza avere dispositivi per capire se ci sei o meno è circa quel tipo di sforzo che ti porta a poter ancora parlare con la persona che hai di fianco ma dove se in qualche modo ti impegnassi anche solo un po' di più o ti sforzassi ancora un po' di più non saresti più in grado di parlare con la persona con cui sei di fianco quindi può essere ad esempio una camminata molto veloce o una corsetta molto lenta oppure andare in bicicletta l'altro giorno ero in una palestra anni 80 mi sa di quelle con i macchinari tecnogym bianchi veramente vecchiotti e c'era un cartello vecchissimo che avrà avuto anche quello probabilmente 30-40 anni che diceva scopri in che zona ti stai allenando e faceva un calcolo ancora più semplificato rispetto a quello di cui ho sentito parlare all'interno di un tuo video ossia ti diceva sottrai mi pare a 210 o 220 la tua età e scopri quale sarà il tuo battito cardiaco massimo cioè la tua frequenza cardiaca massima è veritiera questa cosa? no allora ti dico per poter parlare di fasce di frequenza cardiaca devi conoscere qual è la frequenza cardiaca massimale perché tutte le percentuali sono il 70% l'85% dell'FC max l'FC max tu la puoi misurare in maniera come dire oggettiva facendo un test da sforzo cardiovascolare quello di cui parlavamo prima ma senza la necessità dei gas espirati e quindi sì questa volta parliamo del test che si fa per l'idoneità agonistica il problema qual è? che quando fatto in contesti di medicina dello sport o di cardiologia il test si considera massimale cioè si può sospendere quando si raggiunge l'85% in realtà lì il consiglio è chiedere all'operatore di spingere fino al massimo quindi andare oltre l'85% perché solo così possiamo raggiungere il 100% e vedere qual è il nostro numerino e il 100% praticamente si ottiene quando tu raggiungi un plateau e il tuo battito cardiaco non va più oltre il livello esatto e stai facendo uno sforzo 10 su 10 che proprio non ne hai più è quell'attimo prima di vomitare chiamiamola così quell'attimo ultimo in cui stai dando veramente tutto sai che non c'è più cioè non c'è più altro domanda e se uno prendesse fuori un dispositivo tipo il classico garmin apple watch e si mettesse a correre come un pazzo a fare comunque un esercizio dannatamente difficile tipo per me i barpees sono il mio punto debole non puoi ricercare l'fc max da solo senza andare in laboratorio cioè se a un certo punto vedi che oltre quel battito cardiaco non vai non l'hai già ragionato allora in realtà se si vuole riprodurre il modo migliore è quello di riprodurre proprio il test da sforzo quindi prendere un tapirulan e fare il cosiddetto bruce protocol protocollo di bruce che vuol dire che vuol dire fondamentalmente ogni due minuti aumentare di 50 watt la pedalata o con l'inclinazione o con la velocità come fai a sapere se hai aumentato c'è proprio il numero con la cyclette tu puoi cambiare i watt ad esempio e invece per quanto riguarda il tapirulan nelle impostazioni tu puoi vedere anche i watt oltre alla frequenza che vi ha creato il problema di farlo da soli in un contesto come dire non supportato è che veramente arrivare ad FC Max cioè vuol dire dare tutto all out ed è diverso dal cosiddetto all out che si fa negli allenamenti IT perché arrivi a questo all out facendo un protocollo che dura in totale 21 minuti che è il protocollo validato per la medicina dello sport e della cardiologia che aumenta in maniera graduale la frequenza cardiaca e quindi va a sottoporre il tuo cuore a degli step graduali ti faccio un esempio per capirci meglio se tu saltassi lo step di avvicinamento all'FC Max quindi 20 minuti con l'aumento graduale del vattaggio non riusciresti a raggiungere una frequenza cardiaca così alta con uno sforzo all out che dura da meno tempo quindi tu dici boh io faccio un tabata da due minuti vedo l'FC Max e mi basso su quella quell'FC Max sarà di molto inferiore all'FC Max che raggiunge dopo 20 minuti di protocollo di Bruce ok mi è chiaro e quindi come conclusione potremmo trarre il fatto che quando uno si allena e guarda la zona 1 2 3 4 sull'Apple Watch il Garmin non sono così attendibili allora ti dico 220 meno l'età che sarebbe la formula di Carvone non è attendibile in uno dei video che avevo messo sul canale YouTube c'era un link in descrizione in cui c'era un software per calcolare con alcuni dati come la frequenza cardiaca riposo oltre all'età una fascia un pochino più precisa e questi tra l'altro sono i valori che utilizzano i vari Garmin e Polar cioè il Garmin non utilizza il 220 meno l'età perlomeno inserisce nell'algoritmo anche la frequenza cardiaca riposo che è fondamentale ok mi è chiaro quindi più dati hanno più maggiore la probabilità che questi dispositivi comunque si avvicinino ad una precisione non massimale ma comunque abbastanza tendente all'attendibile diciamo potrebbe essere così esatto esattamente ok prima parlando del V2 Max mi hai parlato di come questo valore sia un'indicazione di miss e sbaglio di come i nostri tessuti periferici siano in grado di raccogliere l'ossigeno esatto che tra l'altro effettivamente mi sembra molto interessante come cosa perché si riallaccia molto poi anche a tutto il discorso della respirazione dell'apnea di Wim Hof e di diverse tipologie di respiro parlando di longevità molto spesso si legge in molti libri di quanto sia importante anche avere un'alta livello di ossigenazione e di come alcune delle persone con massima longevità siano persone che hanno proprio questa capacità di immagazzinare più ossigeno del solito ad esempio gli apneisti sono persone che hanno un'alta longevità e sono persone che molto spesso sono in grande salute a parte quelli che poveretti se ne vanno perché si spingono troppo oltre ai limiti umani però effettivamente quello che si fa nell'apnea è fare degli esercizi di training autogeno ho fatto apnea per un anno io che sono molto simili agli stessi esercizi che potresti fare nella respirazione yogica o in tanti altri contesti una cosa che spesso capita e ci si stupisce molto è che quando si fa ad esempio il metodo Wim Hof in cui la respirazione di Wim Hof ti porta a fare un esercizio di respirazione dove continui a ispirare espirare ma poi dopo 30 inspirazioni l'espirazione ti fa mandar fuori tutta l'aria e tu praticamente rimani in sospensione trattieni il respiro per anche magari un minuto senza però avere aria nei polmoni e questa cosa ti stupisce molto spesso stupisce le persone perché dici ma come non ho aria nei polmoni come è possibile che è duro più del solito in assenza di ossigeno e comunque trattenendo il respiro e questa cosa se ho capito bene ha proprio a che vedere con questo cioè noi l'ossigeno non lo portiamo all'interno del nostro corpo solo tramite diciamo la capacità di immagazzinarlo nei polmoni ma anche tramite la capacità del nostro corpo di andare a immagazzinare quell'ossigeno in tutti i vari tessuti esatto in particolare il metodo Wim Hof si basa su quelli che sono i benefici dell'accumulo di anidride carbonica grazie ad un'equazione chiamata equazione di Bohr cioè maggiore è l'anidride carbonica maggiore sarà la nostra capacità di estrarre ossigeno dai tessuti chi fa apnea invece non solo ha due polmoni così quindi aumenta effettivamente la cisterna ma per stare otto minuti in apnea non ti basta avere due polmoni così devi anche aumentare la capacità di estrarre in maniera super efficiente l'ossigeno dal sangue è uno onestamente l'apnea è uno dei migliori metodi per migliorare la capacità cardiorespiratoria che è uno dei predittori della longevità anche perché come stavi accennando poco tempo fa abbiamo scoperto recentemente non so in che anni che la CO2 non è nemica dell'uomo ma in realtà è un'amica perché avendo una grande tolleranza alla CO2 dimmi poi se sbaglio i termini hai la capacità di immagazzinare quanto più possibile l'ossigeno cioè noi quando comunque respiriamo il nostro ossigeno si sostituisce alla CO2 quindi quanta più CO2 siamo in grado di avere all'interno del nostro corpo o trattenere all'interno del nostro corpo quanto più quanto maggiore sarà la nostra capacità poi di andare a immagazzinare ossigeno ogni volta che ispiriamo ed ispiriamo esatto infatti chi respira male per esempio con la bocca o iperventila ha poca nitride carbonica perché la butta tutta fuori e quindi riduce paradossalmente la capacità di assorbire l'ossigeno invece con degli esercizi come quelli di apnea a riposo ma anche trattenere il respiro durante una camminata a passo svelto questo è come dire un trick advanced aumenta la capacità di estrarre l'ossigeno dal sangue uno dei libri più belli sull'argomento uno dei libri più belli sull'argomento era l'arte di respirare di James Nestor mi è piaciuto tantissimo ma ne ha scritto anche un altro che si chiama Deep mi pare anche quello sull'apnea io avendo fatto apnea mi interessava ma poi in realtà parla in generale dell'oceano del rapporto tra l'uomo e l'acqua che è molto affascinante consiglio anche quel secondo libro è veramente bello e tra l'altro parlando di queste cose qua infatti come dicevi te la CO2 tolerance insomma la capacità di comunque immagazzinare il CO2 per poi immagazzinare ossigeno la aumenti andando a fare degli esercizi di respirazione dove trattieni quanto più a lungo possibile il respiro e l'altra cosa interessante è che quando si ha attacchi di panico o si è molto stressati o magari si ha paura in passato una cosa che tutti dicevano è prendi un grande respiro e invece ora stiamo scoprendo che è un po' l'opposto come dicevamo prima per attivare il sistema nervoso autonomo parasimpatico quindi quello dedicato al rilassamento dobbiamo ispirare più che ispirare che va in contrasto con quello che abbiamo sempre pensato ossia respira molto se hai un attacco di panico in realtà se tu respiri molto e inspiri molto e espiri poco quello che fai è andare ad aumentare l'ansia il panico lo stress e quant'altro quindi in realtà quello che dovresti fare che è controintuitivo è ispirare meno ed ispirare tanto e magari quanto più lentamente possibile diciamo il remedio classico che non si fa in porto soccorso come si crede ma si fa in altri contesti è quello di respirare in un sacchetto di carta per aumentare quindi la frazione di anidride carbonica è ispirata perché con l'iperventilazione classica degli attacchi di panico io butto fuori tutta la CO2 che ho e di conseguenza non riesco ad assorbire ossigeno mi sembra di non aver fiato e di non riuscire a respirare bene e questo trigger ancora di più l'ansia e il panico è interessantissimo ecco perché si respira nel sacchetto me lo sono sempre chiesto effettivamente ok quindi fino adesso abbiamo visto HRV sonno abbiamo parlato di V2 Max non abbiamo parlato molto di alimentazione e ci sono altre cose che vorresti citare prima di chiudere la nostra chiacchierata che sono fondamentali per la longevità per le performance per il biohacking e l'ottimizzazione del proprio stato psicofisico allora secondo me due cose parlando di alimentazione diciamo non è stata citata non dico volontariamente ma perché nella piramide generale del biohacking e dello stato di salute psicofisico secondo me la base della piramide non è l'alimentazione come siamo portati a credere cioè l'alimentazione è fondamentale per carità è uno dei pilastri dei principi più importanti ma quello che abbiamo fatto negli ultimi anni è cercare di raggiungere tutti gli obiettivi relativi a salute benessere sonno stress produttività tutto con l'alimentazione risultato alla fine raggiungere l'obiettivo solo con l'alimentazione ci richiede uno sforzo maggiore se noi non ci impegniamo anche negli altri pilastri aumentiamo le probabilità di riprendere i chili persi quindi dico l'alimentazione è fondamentale con pochissimi principi cioè rispettare tutti i macronutrienti avere una buona dose anche qualitativamente buona di carboidrati proteine e grassi andare a cucire in maniera personalizzata la quantità di carboidrati in base al mio livello di attività se sto tutto il giorno di fronte al pc non ha senso mangiare dalla mattina alla sera pane, pasta, riso e patate è come fare il pieno ad una macchina per parcheggiarla in garage certo e tra l'altro ascoltavo un podcast di Peter Attia proprio l'altro giorno e lui stesso diceva l'alimentazione è importante ma non ne parlerò tanto perché per me alla fine il 20-80 di tutto è il movimento fisico cioè l'esercizio fisico cioè se dovessimo scegliere un unico parametro che impatta più di tutti gli altri che ci mantiene più sani più longevi con più energia eccetera è l'esercizio fisico anche perché se tu ti muovi ti alleni sei in forma puoi magari permetterti di mangiare a parità con una persona che magari meno in forma peggio ma di stare comunque meglio questo non significa che dobbiamo sgarrare ogni volta che possiamo solamente perché siamo in forma fisicamente o perché ci alleniamo ma sicuramente significa che tu anche se mangi bene ma non ti alleni non sarai mai comunque in forma come una persona che invece mangia male e si allena tanto quindi a parità esattamente anche perché se ci fai caso cioè l'attività fisica ti permette di avere una salute metabolica migliore indipendentemente dall'alimentazione ti faccio un esempio quando faccio i miei test con il monitoraggio continuo della glicemia la prima cosa che ho fatto è stata il mio braccio di controllo sai che negli studi c'è braccio sperimentale braccio di controllo negli studi in doppio cerco e utilizzare mezzo chilo di gelato sì mi sono sacrificato per la scienza quindi mezzo chilo di gelato mangiato senza fare attività fisica aveva effettivamente un effetto importante sulla glicemia con degli spike sopra i 140 che era appunto il livello un pochino più infiammatorio ossidativo invece mangiare la stessa quantità di gelato entro un'ora dal termine dell'attività fisica non dico che il mio corpo non si accorgeva del cibo ma quasi sono rimasto stupito mi hai mandato anche a me il dispositivo anzi ti devo ringraziare nuovamente perché è stata una figata il Super Sapiens fighissimo che praticamente analizza la tua glicemia e tramite l'applicazione ti dà un risponso ed effettivamente durante quelle due settimane o un mese che l'ho utilizzato è stato super interessante vedere proprio come nei giorni in cui mi allenavo potevo magari mangiare anche male come capita alcune volte che magari mi sfondo di sushi o vado a mangiare un hamburger e quant'altro i giorni in cui mi allenavo non vedevo il picco glicemico vedevo una collina praticamente e quindi effettivamente se una persona si allena sicuramente riesce a gestire meglio il diciamo il proprio metabolismo ci sono infatti un sacco di ricerche poi anche degli studi secondo i quali sono riusciti a far dimagrire delle persone anche facendogli mangiare il McDonald o mangiando cose completamente poco sane semplicemente però lavorando sul deficit calorico quindi e ovviamente sul deficit calorico imposto dal consumo del tuo corpo di calorie quindi tu anche se mangi male ma se ti alleni tantissimo sei in grado comunque di andare a dimagrire a parità di calorie che vai a consumare cioè prendevano due gruppi e ad un gruppo gli facevano mangiare cose sane ad un gruppo cose ovviamente poco sane come il McDonald o altre cose però a parità di calorie quindi coloro che mangiavano cose sane mangiavano una quantità di cose sane pari a livello calorico alle calorie del McDonald che mangiava l'altro gruppo e alla fine comunque la perdita di peso era presente anche in coloro che mangiavano McDonald quindi conta molto spesso anche il numero di calorie che andiamo a mangiare poi nell'ottimentazione di quella che è il nostro metabolismo e quant'altro io direi che questo podcast è stato un corso accelerato al biohacking se avessi sentito tutto questo anni fa probabilmente non ci avrei messo un quarto del tempo che ci ho messo a capire le diverse cose che oggi magari cerco di integrare all'interno della mia routine e sai cosa penso ogni tanto Nico che alla fine tutte queste cose la maggior parte delle persone le ha già sentite perché nella loro forma più più semplice allenati mangia sano respira bene ci sono degli insegnamenti chiave che se uno li riassumesse probabilmente starebbero su un unico foglio di carta però molto spesso noi abbiamo bisogno di sapere il perché delle cose e abbiamo bisogno di avere l'evidenza di ciò che ci viene consigliato e abbiamo bisogno di sentirne sentire un esperto parlare di queste cose perché quando capiamo il perché e quando vediamo i dati anche questo forse biohacking è nato anche in concomitanza poi con tutta la nascita di questi dispositivi che ci danno i dati e secondo me questo è molto legato al fatto che finalmente le persone hanno la possibilità di avere un feedback rapido che avvalora i loro comportamenti e le loro azioni cosa dici te sì sì io penso che alla fine tutte queste cose le abbiamo lette mille volte le leggiamo ogni giorno su tutti i giornali siti libri e libri vengono comunque scritti su questi argomenti il biohacking secondo me ci dà quel plus relativo al mettere a sistema cioè pensare che per raggiungere un obiettivo bisogno di piccoli step ma in ogni ambito sono stress attività fisica e alimentazione e non puntare tutto su un cavallo questa è la cosa più importante la seconda cosa è quella relativa ai feedback quindi utilizzare la nostra tecnologia affinché ci raggiungi ci faccia raggiungere gli nostri obiettivi e non ci remi contro quindi l'utilizzo dei dati secondo me è molto importante non abbiamo parlato di un altro aspetto del biohacking che è quello relativo ad ambiente e neurobiologia infatti fondamentalmente una delle definizioni di biohacking è la scienza che si occupa di modificare l'ambiente dentro di te e ne abbiamo parlato ma anche intorno a te per raggiungere l'obiettivo questo perché avere delle abitudini dei nudge dei trigger che da un punto di vista comportamentale ci spingono a fare delle cose rappresentino una call to action quindi avere una bottiglia d'acqua su ogni tavolo avere sempre per terra il cuscino per la meditazione o diciamo i vestiti per l'attività fisica vicino alla porta preparati la sera prima sono dei piccoli nudge che vanno a rappresentare uno schema molto importante per l'attivazione di un comportamento agendo in maniera inconscia e subconscia quindi l'ambiente è molto non comprare determinate non comprare la nutella non comprare determinate cose perché poi nel momento in cui c'è il raptus non si pensa e quindi ci sono delle persone che davvero non ricordano di aver fatto degli abusi alimentari perché proprio scotomizzano quel momento io sono una di quelle persone cioè io devo evitare le tentazioni cioè nel senso se faccio la spesa e compro delle schifezze e me le tengo in casa sto certo che nel giro di due giorni le ho finite invece non so come ma sono una persona molto brava che tendenzialmente se va a fare la spesa riesce a non comprare niente di poco sano e quindi in casa tendenzialmente non ho cose che possano in qualche modo creare picchi glicemici se non ovviamente il classico piatto di pasta e secondo me questo è importantissimo come ad esempio io non sono mai riuscito ad andare regolarmente in palestra o ad allenarmi fino a che non mi sono trasferito a Barcellona e avevo una palestra di fianco a casa bellissima e mi piaceva da morire l'atto di andare in palestra perché mi piaceva camminare in spiaggia per raggiungere la palestra quindi ogni mattina prendevo lo skate andavo in spiaggia andavo in palestra c'entravo e stavo anche solo uno o due minuti le prime volte se proprio non avevo voglia di andare in palestra io comunque ci andavo ma me ne uscivo non appena arrivavo ci andavo lì timbravo il cartellino e uscivo e questo è stato fondamentale all'inizio tra l'altro sono arrivato a fare questa cosa in maniera inconscia cioè nel senso non è una cosa che ho letto nei libri ma poi ne ho sentito parlare per la prima volta da James Clear che lui parlava proprio di questa cosa nello stesso modo cioè se tu vuoi iniziare ad andare a correre esci di casa intanto ogni mattina con le scarpe da tennis datti quello come obiettivo passati 21 30 60 90 giorni dipende da da persona a persona avrai acquisito l'abitudine dell'andare a correre e dopo ti preoccupi del quanto corri quindi inizi a fare 5-10 minuti 20 minuti 30 minuti e poi ci prenderai gusto e quando diventi schiavo dell'abitudine non ti costa più fatica cioè a me oggi non costa più fatica andare in palestra se ho una palestra vicina però ancora oggi mi rendo conto che sono schiavo della comodità cioè e per me è importante creare un ecosistema dove mi accomodo fare le cose giuste ridurre la frizione quindi ad esempio qua in montagna dove mi trovo adesso sto in un posto dove ho la palestra e ci posso andare a piedi di nuovo vicino a casa e in a Barcellona avevo la palestra e ci andavo a piedi vicino a casa e scelgo sempre magari delle palestre conformi alle mie necessità ad esempio odio gli spazi pubblici iper affollati e non mi piace andare nelle palestre dove devi stare in coda con gli attrezzi a Ferrara ad esempio che non ho la possibilità di andare in una palestra che mi piaccia perché dovrei prendere l'auto uscire dal garage andare in palestra cercare parcheggio mi sono fatto una piccola palestra in casa quindi ho una panca ho un rack dei pesi e questo mi permette comunque di allenarmi non magari con la stessa flessibilità ottimizzazione dell'andare in una palestra ma comunque mi permette di dire ho mantenuto la mia abitudine quanto più lungo possibile non si tratta tanto di quanto ti alleni come ti alleni eccetera all'inizio ma di abituarti a mantenere l'abitudine hai detto le due cose più importanti perché abbiamo parlato dell'importanza dell'abitudine non c'è abitudine se una cosa non è semplice e non è piacevole perché senza piacere non c'è dopamina senza dopamina non ripeto quell'azione cioè siamo proprio fatti così ma da milioni di anni se andare in palestra mi richiede un commuting di due ore degli spostamenti troppo importanti non lo faccio quindi o si cambia l'ambiente intorno a noi o mi organizzo a casa con un tappetino una fitball una kettlebell degli elastici cioè in un metro quadro puoi fare veramente un workout completo sì e poi l'altra cosa secondo me che è importante è trovare una motivazione che vada al di là dei semplici obiettivi fisici cioè io mi rendo conto ad esempio che mi entusiasmo seguendo le persone cioè ad esempio mia passione al biohacking seguo Nicola Nicola ascoltandolo mi dà delle informazioni che mi danno la carica invece sentirti dire spesso dal medico guarda che ti devi allenare non ti crea una motivazione perché non c'è un punto non c'è un punto di contatto con la disciplina l'argomento che genere entusiasmo prima l'innesco dell'entusiasmo è fondamentale per questo ad esempio molto spesso le persone guardano i nostri modelli di business come uno yoga academy o un area training eccetera ma non avete paura e ci dicono ma non avete paura delle applicazioni americane dove ci stanno tutti questi trainer che sono super ottimizzate hanno milioni di hour di budget io dico è comunque un modello molto diverso perché il lavoro di Danny ad esempio non è insegnare le persone a fare yoga è avvicinare le persone a yoga portare le persone a comprendere i valori dello yoga comportare le persone ad appassionarsi e innamorarsi della disciplina e questo più di qualunque altra cosa ti fa creare l'abitudine e quando crei l'abitudine scegli la persona scegli il prodotto che più ti piace a parità di prodotto non è tanto la feature tecnologica che cambia ma è la capacità del docente dell'insegnante di farti appassionare a qualcosa io lo dico sempre ad esempio il surf è uno degli sport più difficili del mondo secondo me da imparare perché tu stai sulla tavola a pochi secondi ogni volta che prendi un'onda quindi progredire non è facile e le prime volte quando tu entri in acqua ti prendi queste onde in faccia devi continuare a sbracciare remare per superare le onde per poi trovare un posto in cui metterti e poi prendere l'onda e caspita è una gran fatica quindi a parità di persona la persona che però cioè a seconda della situazione che vivi ti appassionerai o meno alla disciplina magari se tu entri per la prima volta nell'adriatico in un giorno freddo con la muta con le onde che ti si spaccano in faccia e diventa quasi un supplizio surfare invece magari la stessa persona la prendi la fai entrare in acqua per la prima volta a Bali con le ondine perfette il sole si troverà ad innamorarti molto velocemente del surf quindi quando senti quelle persone che dicono no a me non piace fare questo non mi piace fare quello non è semplicemente perché non sono portate o non possono appassionarsi è che hanno sbagliato il punto di contatto il punto di inizio per me la cosa bella del biohacking è che tu inizi a capire come funzionano le cose e queste cose poi te le inizi ad applicare e ritrovare all'interno di molti contesti e molte situazioni quando tu ti appassioni al biohacking e al fitness in generale inizi a provare soddisfazione nel fare tante discipline un tempo non mi piaceva andare in bici non mi piaceva fare diverse cose non mi piaceva fare sci d'alpinismo non ero interessato allo sport in generale ora che ho iniziato ad acquisire i principi ho interiorizzato quei principi di gamification che mi danno questo senso di avanzamento in tutto ciò che faccio che è ciò che crea il feedback necessario per appassionarsi e allora diventa facile appassionarsi a tutto e iniziare a credere di essere diventati degli sportivi anche se sei dei wannabe o degli sportivi della domenica sono d'accordissimo anche perché allora la motivazione è labile perché dipende molto dall'emozione la forza di volontà è una risorsa finita non possiamo basarci sulla forza di volontà per cambiare tutto nella nostra vita perché è come un muscolo la puoi allenare ma poi dopo un po' si consuma non puoi utilizzarla per tutto il giorno invece il biohacking ti permette di ottimizzare i livelli di energia e aumentando appunto l'energia aumenti la tua capacità di fare le cose la tua abilità di fare le cose e andando a modificare l'ambiente intorno a te hai un ambiente che non consuma le tue energie ma anzi facilita il tuo cambiamento comportamentale e ti aiuta a fare delle scelte senza appunto un grosso investimento di tempo economico o di energia quindi l'ambiente io lo vedrei come facilitatore delle nostre abitudini e al contrario nella maggior parte dei casi invece è un ostacolo e anche lì dobbiamo più insistere sul potere di quelle che sono le abitudini le routine in agio invece di delegare tutto alla forza di volontà perché secondo me è una lotta persa la forza di volontà così come viene descritta non può supportarci in queste vite frenetiche strapiene straimpegnate non ci può supportare per tutto il giorno ci supporta fino alle 11 al massimo poi è finita è la peggiore delle risorse è la più scarsa in assoluto Nico io ti ringrazio penso che sia stata una conversazione illuminante sia per me sia per tutte le persone che guarderanno questa chiacchierata ci sarà sia in formato podcast se magari qualcuno vuole la scoprire su youtube e magari vuole ascoltarla in auto mentre in coda durante un commuting o magari durante una sessione di zona 2 esatto poi linkerò sotto in descrizione tutte le risorse la masterclass le cose che abbiamo citato e ci sarà sicuramente una parte 2 di questa conversazione perché abbiamo lasciato fuori diversi argomenti che a me interessano come il fasting come poi tutto l'aspetto ormonale e tutte quelle dinamiche anche neurologiche che sono sicuramente importanti riguardo al biohacking lascio sotto tutti i riferimenti di Nico quindi potete trovare il canale youtube il sito web di Nicola e tutti i suoi account social in descrizione sotto il video e sotto il podcast Nico io ti ringrazio grazie a te la prossima volta ci vediamo di persona ti vengo a trovare alla grande e grazie a tutti ci vediamo nel prossimo episodio ciao 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 ciao